Per una città circondata dal mare partecipare l'office era davvero doveroso. La Camera di Commercio di Taranto ha aderito con convinzione alla campagna promossa da Union Camere e dal Ministero delle Politiche Agricole perché crede fortemente che la Blue Economy sia un importante elemento di sviluppo per il nostro territorio. In questo momento, come è noto, il settore è in grande difficoltà dopo i problemi legati all'inquinamento. Infatti, il gran caldo ha distrutto le coltivazioni di mitili ed ostriche. Certo, l'acquacoltura è solo un segmento della più vasta economia del mare, ma è una parte significativa non solo dal punto di vista economico, ma anche perché educa al consumo i prodotti allevati che garantiscono qualità e tracciabilità ed impone elevati standard di produzione. Naturalmente, resta alta l'attenzione della Camera di Commercio di Taranto sulle risorse del mare e sulle sue enormi potenzialità. Un patrimonio, un grande patrimonio da salvaguardare e da valorizzare. Ovviamente, il nostro impegno non finisce qui.